Ho conosciuto Michael la bellezza di 17 anni fa Ogni leggenda ha un inizio Ti vuoi levare quella maschera? Michael! Le persone brutalmente uccise e un bambino di 10 anni arrestato Oggi posso tornare a casa? Non puoi uscire figliolo perché hai fatto delle cose molto brutte Non hai detto una parola per 15 anni Da regista Rob Zombie Dietro quegli occhi puoi trovare solo le tenebre Mi raccomando sta attenta stanotte Tutti i pazzi escono per Halloween Lo sapete benissimo dove sta andando E' tornato per la sua sorrellina Per fare cosa? Questa è la vera storia Del più grande serial killer di tutti i tempi Halloween The Beginning Dal 4 gennaio al cinema